Il numero 127 di Fratelli Tutti è un punto che sollecita molta attenzione nel ragionamento di Papa Francesco e gli pone il tema di un sogno e di una alternativa. È possibile pensare a un'umanità diversa a partire da un'etica globale di solidarietà e cooperazione. Questo vuol dire rilanciare un orizzonte che qualcuno potrebbe definire un orizzonte utopistico, un orizzonte fantasioso, ma è uno dei punti centrali del ragionamento che lui fa in questa enciclica che lui ha già fatto nella Laudato Si, e cioè che bisogna tenere sempre alto l'orizzonte, bisogna immaginare la possibilità di un cambiamento radicale della realtà. E però questo chiama subito una ricaduta pratica. E qual è la ricaduta pratica? È la ricaduta della necessaria politicizzazione di questo orizzonte. L'etica globale di solidarietà e cooperazione è quello che muove alcune persone. E da questa spinta, che non possiamo dare per ovvio che sia condivisa da tutti e da tutte sulla faccia della Terra, deve venire una spinta a progettare soluzioni ai problemi che in qualche modo diventino soluzioni strutturali. Non possiamo aspettare che tutti condividano questa etica globale, non possiamo aspettare che il futuro di interdipendenza e corresponsabilità nell'intera famiglia umana, come si esprime Francesco, diventi come per magia un orizzonte comune. Sappiamo che non lo sarà, ma chi lo condivide ha la responsabilità di partire da lì per tradurre questo grande impegnativo orizzonte in progetti strutturali, perseguibili, in orizzonti politici, economici, sociali, culturali, che comincino ad avvicinare questa meta impegnativa e radicale.